Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video Ieri sono usciti i footies e non potevo non portarvi un video sui footies Ma quest'oggi non vi porterò una recensione Ma un giocatore che ho vinto in un concorso organizzato dall'EA Infatti un concorso in cui regalava dei footies, non si sa precisamente quali A 200.000 persone fortunate e io ho vinto E il giocatore footies rosa che ho potuto ottenere, che mi sono trovato proprio nel club E' primo proprietario e non si può neanche vendere E' Ronaldinho Pink, rosa o footies come volete chiamarlo Davvero un ottimo giocatore che avrei comunque acquistato L'altro giocatore che ho acquistato lo vedrete domani, sempre footies In una recensione davvero molto utile, è anche lui in 5 star skillers ma lo scoprirete domani Questa è la squadra che ho creato per giocare online con Ronaldinho E ora vi andrò a mostrare questa mia breve compilation in cui ci sono qualche gol e schiss di R10 Io vi invito a lasciare un mi piace, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti